Da qui a giugno siamo certi che partiranno le prime banditure, i primi bandi per rafforzare e investire sulla centralità del sistema culturale e dei media in Europa per i prossimi anni perché anche la trasformazione del modello di sviluppo passa per la dimensione culturale. Per noi cultura significa editoria, giornalismo, musica, eventi, cinema.